Black Friday quindi anche come strategia di marketing per combattere la crisi che attanaglia da tempo i commerci al dettaglio. In realtà però a Lugano c'è chi si sta muovendo anche su un altro livello. L'associazione Via Nassa ha infatti incaricato l'Usi di elaborare uno studio per rilanciare i commerci locali. Via Nassa? Piuttosto i negozi di lusso. Cosa vi dico? Via Nassa mi ha in mente negozi una volta. Negozi una volta sì perché ormai adesso so che tanti stanno abbandonando. La bella Lugano. Negozi di lusso. Alle sere certe volte non c'è nessuno qua. Ognuno con la sua idea tutta è necessaria definire il brand di Via Nassa. Un'identità che alla luce della crisi dei commerci forse andrebbe rimodellata. Capire cosa fino a oggi o meglio fino a ieri ha fatto la forza di Via Nassa significa anche andare a identificare quelli che sono i fattori che noi possiamo riscoprire e che diventano i punti di partenza per ridisegnare l'identità culturale della Via Nassa e quindi attrarre nuovi visitatori. Incontriamo il professore Roberto Manzi nel suo ufficio all'Università della Svizzera Italiana. È qui che è nato il progetto Renaissance sviluppato in collaborazione con l'associazione Via Nassa. Il progetto è un tentativo qualificato di redesign, quindi di ridefinizione di un'identità su un'area commerciale che è stata da sempre il punto di riferimento di Lugano. Punto di riferimento e termometro dei consumi ticinesi, oggi Via Nassa deve fare conti con la crisi. I dati sono freschi di municipio. Per la prima volta negli ultimi sette anni il numero dei commerci nel centro cittadino ha subito una flessione negativa. Noi ci rendiamo conto anche parlando, girando, come si fa di solito, che c'è comunque una flessione importante, ci sono anche dei segnali dei negozi che si stanno disimpegnando o hanno lasciato e che anche per gli affitti molto alti non si riesce a trovare un rimpiazzo. Io credo che sarebbe importante avere un incontro, e andiamo un po' in questa direzione quello che stiamo studiando, di cercare di avere un incontro anche multilaterale, in modo tale da capire le esigenze di ciascuno. Di qui appunto il progetto Renaissance presentato nelle scorse settimane alla città di Lugano. L'approccio, ci dice Manzi, è quello scientifico, vedere, giudicare, agire oltre le apparenze. Diciamo storicamente Vianassa è lusso, ma se noi oggi andiamo a vedere che negozi ci sono, quali brand ci sono, ma anche quali alberghi, quindi non legati solo al settore lusso, ma anche alberghi legati a un settore di fascia media, è interessante magari scoprire che Vianassa probabilmente debba riallinearsi ad un'altra tipologia di cliente, o, meglio ancora, se vogliamo mantenerla sul lusso, debba fare delle azioni per rendere maggiormente attrattivo il cliente lusso. L'inchiesta che convolgerà ricercatori, professori e studenti durerà un anno e mezzo. I risultati verranno pubblicati sul Financial Times, Vianassa alla ricerca del brand, un filone identitario che potrebbe connotare anche gli eventi cittadini.